il progetto dell'orchestra nazionale jazz giovani talenti è nato qualche tempo fa all'inizio l'orchestra era molto più numerosa poi l'abbiamo ridotta a 11 giovani under 35 diretti da me le nostre composizioni sono praticamente frutto della penna sia di alcuni musicisti dell'orchestra che i miei alcuni poi sono impreziositi dall'arangiamento di cristiano arcelli uno dei migliori arrangiatori e compositori italiani l'opportunità di questo disco nasce dal fatto di aver vinto un bando della siae che si chiama si illumina è un bando proprio dedicato alle opere discografiche e quindi siamo qui in questi meravigliosi studi di musica per roma dell'auditorium per realizzare questa registrazione che uscirà appunto per l'etichetta il parco della musica e i musicisti sono fra i migliori in italia è vero che sono tutti molto giovani ma già assai affermati ognuno come leader di un proprio gruppo c'è una bellissima energia e i pezzi sono molto interessanti e permettono a ognuno di esprimersi al massimo anche come solista non solo nel suono d'assieme non solo nel suono d'assieme